Vabbè, vorrebbe assolutamente funzionare. Che palla questa cosa qua delle trasmissioni non capisco, non capisco proprio. Questa cosa delle trasmissioni, proprio non riesco a capirla. Non capisco, non capisco proprio. Questa cosa delle trasmissioni c'è proprio un problema, non riesco a capirla. Aspettate ragazzi, aspettate tante cose che non mi va. È una cosa assolutamente funzionante. Anche per me è una cosa funzionante, devo dirla la verità. Allora, dove non c'è gente? A parte ragazzi che muagino subito, quindi... Il singolo non è che ci giochi tantissimo. Questa, spermm cliché. Allora... Che... Allora... 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 Grazie a tutti. Dai raga ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, non è impossibile ste roba. Ok, qua gengetecina è già stata. Ok, perfetto. Grazie. 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 Davide, 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 guarda la mia live No, guarda la mia live Live Ti dico il mio No, guarda la mia live Davide, Davide, Davide Davide, Davide per far Dicò Dicò